Umberto Marelli è il Presidente della Soforenze al termine di questa Assemblea. Pronto a fare la sintesi delle tante parole che abbiamo sentito ma anche dei tanti problemi. In qualche modo sei stato l'interlocutore che ha messo insieme la categoria con quelli che sono i problemi e hai provato a dare delle risposte, delle risposte che ovviamente non sono potute arrivare. Sì, ovviamente ringrazio innanzitutto i colleghi per la partecipazione numerosa e costruttiva perché alla fine si sono state fatte delle proposte che vanno in un'unica direzione che è quella di garantire la giustizia a tutti i cittadini dell'isola. Il problema ce lo diciamo già da tanti anni è solo ed esclusivamente politico. Abbiamo invertito l'ordine del giorno proprio per questo perché è chiaro che senza la stabilizzazione qualsiasi altro tipo di procedimento di nomina di magistrati, di personale giudiziario va a decadere. Abbiamo avuto delle rassicurazioni non ultimo proprio la settimana scorsa. Siamo sempre in contatto con il partito di riferimento del governo italiano il quale ha preso l'impegno sia per le nostre sezioni insolari sia per i tribunali abruzzesi addirittura con l'istituzione di altri tre nuovi tribunali, uno al nord, uno al centro e uno a sud dell'Italia e quindi siamo fiduciosi che il problema si possa risolvere.